Sconti Maisons du Monde, ottobre è il momento delle panche. Approfitta degli sconti di ottobre 2024 da Maisons du Monde per aggiungere stile alla tua casa con panche funzionali e dal design unico. Le panche in offerta sono perfette per vari ambienti della casa, dall'ingresso alla camera da letto grazie alla loro versatilità. Oltre all'estetica accattivante, queste panche sono dotate di spazi contenitivi utili per mantenere l'ordine in casa. Trova la panca che fa per te tra diversi modelli scontati, come il divanetto in velluto o la panca Zara in legno di mango.